Benvenuti a Camera di Commercio News. Le imprese turinesi hanno un punto di approdo, il Desk Startup della Camera di Commercio di Torino, che le sostiene quando hanno un'idea imprenditoriale innovativa fino a sfruttare nuove opportunità di sviluppo e crescita. Sentiamo come. Il Desk Startup è messo gratuitamente a disposizione dell'imprenditore dall'ente camerale, attraverso una serie di professionisti specializzati sul tema dell'innovazione, capaci di intervenire e offrire assistenza anche personalizzata. Un Help Desk utile nel definire mercato, concorrenti, business plan e nel fornire informazioni su come partecipare a bandi europei, accedere a opportunità di alta formazione o a servizi di valutazione e management dell'innovazione e dell'avvio di impresa. Con oltre 1800 imprese innovative il torinese si conferma un territorio particolarmente fertile. Le agevolazioni fiscali del piano impresa 4.0 hanno favorito in buona parte gli investimenti. La misura più utilizzata è stata il credito d'imposta per ricerca e sviluppo. Le imprese possono inoltre partecipare gratuitamente ai convegni sul tema dell'innovazione, organizzati da Camera di Commercio, consultare gli studi economici del territorio e le analisi dei trend tecnologici. È tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo appuntamento.